Presidente per la parola, vedete, io è la prima volta che ascolto dalle parole di un assessore parole di contenuto, di competenza e anche di spessore, ma non lo dico perché il mio assessore è l'assessore di maggioranza, lo dico perché finalmente questa amministrazione ha degli assessori con delle competenze e con delle qualifiche. Negli anni addietro era diverso, era diverso perché le politiche scelerate che sono state presentate, che sono state portate avanti, sono state delle politiche distruttive per la nostra città. Infatti ad oggi, siccome parliamo di rifiuti, possiamo dire tranquillamente che questa città è preva di un'impiantistica risolutiva, importante, che possa veramente risolvere il problema dei rifiuti a Roma. Ci siamo ritrovati con una raccolta differenziata al 32-36%, un numero veramente molto basso per una città importante come Roma. Ci aspettavamo di trovare dei numeri più confortanti, ma se vogliamo dirla tutta, negli anni addietro si era portato anche avanti un progetto pilota di raccolta differenziata, per esempio a Massimina, dei progetti che portarono la raccolta differenziata al 50%, al 60%, anche al 70%, dei progetti pilota che una volta raggiunto l'obiettivo sono stati dismessi. Questo forse ci fa riflettere perché allo stesso tempo i rifiuti venivano portati in un buco, in una discarica, la discarica di Malagrotta, la discarica più grande di Europa. Evidentemente questo ci fa riflettere, ci fa pensare, perché tutto veniva conferito dentro quel buco. Quel buco fu chiuso non grazie alle scelte politiche, ma grazie a un inizio di infrazione europea è stata l'Europa insieme ai cittadini della Valle Galeria che hanno richiesto a gran voce la chiusura di quel buco, di quella discarica. Ad oggi ci ritroviamo in una condizione che quella discarica chiede ancora di essere recuperata, ridata ai cittadini quel territorio che deve essere valorizzato, ricostituito, un capping che non è mai esistito e un progetto di capping che non è mai stato portato avanti dalle passate amministrazioni, l'amministrazione Marino. Ecco, ci ritroviamo con un'impiantistica obsoleta, antica, vecchia, che chiaramente provoca problemi ai cittadini, perché sappiamo che i problemi che provoca sono molteplici, dei problemi d'origine, dei problemi anche di smaltimento e di recupero. Parliamo di salario, di rocca cencia, due impianti di trattamento meccanico-biologico molto datati che non vanno assolutamente a risolvere il problema dei rifiuti a Roma, ma che hanno creato grosse problematiche alla cittadinanza. L'impianto di rocca cencia, come ben sapete, cari colleghi, è molto vicino alle abitazioni, alle scuole, alle asidi nido, idem l'impianto di via salaria. Ecco, questo è quello che ci troviamo. Possiamo aggiungere un impianto di umido, di compost, che tratta 20.000 tonnellate, un numero molto esiguo rispetto alla produzione di compost di umido che questa città produce, all'incirca 170.000 tonnellate. Sono numeri che fanno rabbrividire perché tutti i rifiuti venivano portati fuori da questa città. I ricavi che Ama aveva sui rifiuti erano pochissimi, ma sappiamo che il rifiuto è una risorsa. Questo evidentemente non è stato ben pensato dalle passate amministrazioni. Quando si parla di scelte politiche di nuova impiantistica, sia il Partito Democratico sia il centrodestra hanno avuto la possibilità di presentare dei piani industriali. Questo non è mai stato fatto. Nell'epoca alemanno non è mai stato presentato un piano industriale risolutivo, se sempre affidati alla discarica di Malagrotta. L'unica soluzione per il recupero dei rifiuti. Ora ci venite a dire, a raccontare, a suggerire cose nuove, diverse. Io ho letto gli ordini del giorno presentati dal centrosinistra e dal centrodestra. Colleghi, non dicono nulla di nuovo, non vanno oltre i pannolini. Chi ride sui pannolini vuol dire che di ambiente, di ecologia, non ci capisce veramente nulla, perché i pannolini rappresentano il 3% dei rifiuti nazionali, rappresentano una diminuzione di 4.600 tonnellate di rifiuti annui. Questo rappresenta non utilizzare pannolini non reciclabili. E vedete, cari colleghi, il problema dei rifiuti non si risolve tu cura con l'impiantistica. Il progetto rifiuti zero è un progetto in evoluzione, è un cammino che l'amministrazione deve fare insieme ai cittadini. E quando diciamo che i piccoli gesti portano a delle grandi azioni, ecco, i piccoli gesti possono essere questi, come per esempio non utilizzare pannolini non reciclabili. Ma, cari colleghi, voi parlate di rifiuti, parlate di problematiche che questa amministrazione non vuole risolvere. Io vorrei semplicemente ricordarvi discarica di Castelverde. Ecco, una discarica che non si conosceva, che soltanto questa amministrazione ha portato alla luce questa problematica. Una problematica che i cittadini che vivono nei pressi di quella discarica, possiamo dire, ha anche 20 metri di distanza tra la discarica e i cittadini. Una discarica che è nata abusiva, che le passate amministrazioni se ne sono accorte forse oggi, oggi che fanno polemiche politiche. Quell'amministrazione poteva essere, quella discarica poteva essere trattata, poteva essere curata. C'era un investimento dei fondi TAV nazionali che potevano essere molto di più rispetto ai 3 milioni e 100 che ci sono oggi. Per non parlare di centocelle, cari colleghi, ci siamo ritrovati la terra dei fuochi nella nostra città e nessuno sapeva niente. Tutti dicevano che i problemi dei rifiuti a Roma non esistevano, oggi invece esistono.